Però io ho fatto un errore, vi chiedo scusa, a parte che lo sapevate tutti che c'era Luca Zingaretti, adesso mi tireranno le orecchie, lo sapevate tutti, però in realtà io ve lo dovevo scoprire dopo. Allora facciamo finta che io non vi abbia detto chi sia e rivediamole invece in un video che ci fa capire chi è. A un certo punto chiede, questo anziano signore chiede al suo interlocutore, questo giornalista giovane, dice sentami scusi, vedo che lei ha portato dei giornali, tra questi qua c'è il giornale di Sicilia, sono siciliano anch'io, le dispiacerebbe se dessi un'occhiata a questo suo giornale di Sicilia. Sono siciliano, da vent'anni non mi capita di vedere un giornale delle vie taranti. La voce mi era quanto mai coltivata, l'accento impeccabile, gli occhi di Sicilia e Pecchio mi guardavano con profondo vista. Trebo, la facciatura, sa sono siciliano anch'io, se lo desideravo è facile portare qui il giornale, disse la grazie, non credo sia necessario.